Ciao a tutti ragazzi, io sono 66 e benvenuti in questo nuovo episodio di Arise Ho il mio joystick in mano E ci siamo, siamo pronti ad andare verso la morte No, la morte no, vede Verso tipo l'uccisioni mie mite Ora muoiono, qualche sera Oh merda, ahia Ragazzi devo scappare Adesso mi ammazzano, oh merda Joystick non mi puoi abbandonare in un momento del genere Oh merda Ok Dai Marius, dai Marius Ciao braccio E anche io ti conosco, tu sei il bracciomane Dai romani, dai regionari Andiamo La morte è vostra amica Più o meno Diciamo che magari potrebbe essere me Potrebbe andare meglio Oh Ciao gente Un attimo era la ditta, va ragazzi Comprie combattie, non basta a chi Ti danno fastidio Trozzo di merda Devi morire Tagliabbraccio, no Questa volta la chiamo La ti vengo da dietro No, staccola Ti vengo da dietro Non penso sia una mozza Penso sia una proposta Ok E muori Ok Dov'è un po' di vita ragazzi Salve abbraccio Bravo Ti sei un amico romano Ho preso malandato Oh Tam Tam Addio testa Fai ciao Ormai si vuole la stagione di arvenire Boh Non c'è nessuno Oh Ciao amico Ciao testa Guarda con che potenza Con qualche potenza Il nostro giovane romano Si ampresta A picchiare la gente Wow Prendi botte Guarda Sangue È morto E tu pure Muori Male Oh Zam 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 Testa Addio Pam Peccato Ci sono stato Due tipi di nemici Sicuramente Questa è la cosa più brutta Di questo gioco Cattiveria Bam La nostra flotta è distrutta Dobbiamo arrivare alla torre Devo scappare ragazzi Più che posso Arriva la torre Dove è la torre Lì ok Mi sparano frecce Io le scrivo tutte Aia Dove è un romano di merda Ti hanno buttato giù Com'è riprova Sto scherzando What the fuck Ammuccio è morto Ragazzi Cioè La torre Devo beccare Io vado di fronte La gente Non dovrebbe morire Non dovrebbe In teoria Invece è morto Ha fatto una brutta fine Uh Non di nuovo Dai Di nuovo da questa parte Quasi io si farei potenziamento A questo punto Va ragazzi Andiamo a fare potenziamento Potenziabilità Vediamo un po' Cosa possiamo prendere Uh Figo Potenzia Consumo furia Ok Figo Devo solo un botto Ste cose Ok Andiamo a guadagno XP Danno XP Oh Non ho più soldi Che merda Ok Torniamo qui Facciamo una stab Facciamo altri tizi Facciamo tipo Una furia E basta Siamo anche livello 4 Uh Figo Un chirurgo Come un chirurgo Da quando esistono I chirurghi All'età Vabbè Sì c'è No Tipo All'età Yiziana Devo fare la storia Via Fai 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 Oh Cattiveria Taglia braccio Taglia gola Taglia tutto Guarda la cattiveria Guarda la cattiveria Guarda la ex Prendo qui Taglia braccio E colpisce Molto Ciao amico Zam 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 Tetta Collo Guarda la cattiveria con cui fa dai stragi Marius Dovrei prendere tipo No Furio Ti ammazzo Ciao braccio Non è finita ancora Mi sembra che la furia sarà questa Sì La cattiveria La cattiveria ragazzi Rango sbloccato Dobbiamo arrivare alla torre Ah ok Ho capito cosa devo fare ragazzi Aia Guarda mi stanno sparando Devo fare tipo la testugina un'altra volta Andiamo Cioè i romani sono fortissimi in questo punto In questo punto di vista Andiamo amici Dobbiamo arrivare lì Guarda che spara le frecce Spara Fermi 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 Abbassiamo gli scudi Tronzi Arriviamo Noi arriviamo Soldati Fermi 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 Una cattiveria Oh guarda Metà metà stanno facendo adesso Oh questo Guarda come si può fare In posizione Sono stupidi Cioè direi aspettano Aspettano E non ci fai Soldati Fermi Tenere la formazione Aia qualcuno è morto No Nessuno è morto Sì uno è morto I pugnari Giove l'occhio Lanciare Pronti a combattere In posizione Scudi pronti Venete duro Dovrà avvicinarci un po' raga Tu deliberi Alzare gli scudi Forza Virare Lanciare Ok Siamo riusciti a passare Legionari Avanzate Cioè lui è un legionario Cioè È il legionario anche lui Cioè in teore dovrebbe Dovrebbe comandare Però comanda lui Vabbè Dettaglio Chi se ne frega La gente va avanti Quindi Vado avanti anch'io Joystick Capisco che tu non voglia giocare oggi Però Ok Joystick è un po' scarico Vediamo un po' quante batterie abbiamo Non lo so Non me lo dice Ah livello medio Ok perfetto Quindi ok La barricata deve reggere fino all'arrivo degli arcieri Eh sì Madonna Non ci avremo male Legionari Eh In linea Su Su Venite Forza compagni Prendiamo questo forte Forza Forza Quanta gente è morta per un forte Le difese sono schierate Ma perché ti scarichi Questa sono le pile ragazzi Arcieri Cioè loro non guardano Capito Non fermi lì a morire E lo so che i vostri servono aiuto Anche a me servirebbe aiuto Cioè Se risparate magari Aia Mori male Mi servirebbero altri leoni Lancia Non tranquillo Tranquillo Non preoccupare Decidi gli arcieri Eh lo sto deciso provando Eccoli gli arcieri ragazzi E gli avrebbero altri lanci Arcieri di merda Mi aiutate Mori male Cattiveria Andiamo belli Ai tetti Sì ok Arcieri sui tetti Possiamo uscire anche dove andare Dobbiamo ucciderli ancora Ah dovevo ucciderli Perfetto Bello Vien qua Braccio addio Morte Testa Via Ora è più difficile Ucciderli Oh Cristo Ok Uh Morte Mi sparano Cattiveria Aia Aia Merda Dovevo un po' Stipo fare attenzione Perché mi sparano Ho ucciso A random Bang Cattiveria Dami salute Bel po' Di salute Mi sembra BAM 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 Oh Cattiveria Ok Altra salute Presa ragazzi Deve andare di qua Deve andare vero Sì ok Andiamo Marius Possiamo colpirli Sul fianco destro O spostare L'oscorpione A sinistra Giordini Alla battaglia Gli ordini Sono Spariamo Uccidiamo Uccidiamoli tutti Non problem C'è proprio Una fidata Un'altra 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 Braccio Testa Stando testa Braccio È bello Tagliare il braccio Facciamolo Con i cieli di braccio Qualcuno lo vuole Braccio Sì Sempre Comunque Braccio Eh beh È giusto Un po' Di gerato Se è a caso Guardate Un ponte Archeri Dov'è il ponte Scusa Riparatemi con i barili Avanti Alle mura Aia Aia Magari però mi aiuti Stranzi di merda Capito i cosi Capito i cosi Capito i cosi Non ti vengo a prendere Ti vengo a prendere Bello Ecco Dov'è vai Dov'è vai Bam Ok Buono Proteggete il meccanismo del ponte Non deve attraversarlo Aia Ammazzatelo prima che abbassi il ponte Abbassare sto ponte di me Esci fuori E qua stronzo Ragazzi non ti ho beccato Ora ti becco però Ok dobbiamo andare ragazzi Ponte aperto Si va avanti Sparano Sparano i giornali Andiamo Seguitemi